Nella mia vita butto ogni cosa anche te Io di tutto quanto il passato la faccio un parò E anche questo momento prima o poi lo brucerò Ho un'altra vista dal mio appartamento Cambio tutto, solo l'anello di fidanzamento Cambio tutto, ora questa settimana giuro Il mio oroscopo dice sicuro Che non c'è più stato un giro Io mi sento già più positivo Cambio tutto, la verità Cambio tutto, nella mia vita 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 Tutto cambia, niente cambia se guardo bene in fondo Più ci provo al mio modo e più io mi confondo Ho provato a cambiare il numero del cellulare Ma qualcuno alla fine poi tanto lo trova uguale Alla radio si sente pasta, solo roba nuova Accendo la tv e la vita sembra strafinaria Buona questa settimana giuro Il mio oroscopo dice sicuro Che non c'è più stato un giro Io mi sento già più positivo Cambio tutto, la verità Cambio tutto, nella mia vita 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 sempre nel giorno prima, so che mi sveglierei meglio sicuro la mattina, ho un'altra vista dal mio appartamento, cambio il mondo, sotto l'anello di fidanzamento, cambio il mondo questa settimana giuro, il microscopo dice sicuro, perché non c'è più saturno in giro io mi sento già più positivo, cambio tutto la verità, 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 cambio tutto la verità Grazie davvero, grazie, grazie davvero. Emanuello come stai? Bene, bene, davvero. Ha ancora tanta energia su questo palco. Che energia, che grinta, Emanuello, grande, grazie davvero. Poi volevo così fare complimenti anche ai ragazzi, che sono strepitosi. Allora, ripresentiamo i J. Assolutamente. A partire da qui è i J. Abbiamo Ezio. Ezio, quanti chili hai perso, Ezio? Abbiamo Tufo. Ok, ragazzi, ma sapete che somigliate ai ninja con questi corpettini? Sì, molto tartaro. È vero, è vero. Molto tartaro di ninja. Emanuello come da ieri sera che sono così, eh, scatenati, ballano da ieri sera. No, e lui, 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 guarda un po', cioè, un bancho di sudore. Cioè, lui può mangiare di tutto e di più perché intanto basta ballare e poi brucia tutto. Hai capito? È bello. Questo disco, ovviamente, eh, infatti c'è, hai detto, una bella produzione. Sì, 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 sì. Tanti ospiti, tante collaborazioni. Assolutamente. E ecco, poi abbiamo lavorato con Big Fish, con Nesli, che comunque, eh, ecco, ci siamo trovati. Abbiamo detto, cavolo, facciamo un disco che spacca, proviamoci, uscirà il 16 settembre. E sta spaccando questo disco. Spacca, spacca, veramente. Però speriamo, ma grazie a voi veramente che ci supportate. Tra l'altro, la tua voce, questo non è assolutamente vero. La tua voce, insomma, è molto particolare e ne è rimasta affascinata una grande artista italiana che è Giorgia, che è anche la tua produttrice. Sì, del primo disco abbiamo iniziato appunto con lei, con più tempo. Eh, abbiamo sperimentato un po' di cose, adesso ci siamo lanciati su questo progetto nuovo. E grazie a voi ancora per averci ospitato. Grazie a te, grazie a voi, ragazzi. E mano ai lotto, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie. Hai visto? C'energia. Io volevo vedere te col colpettino da tartaruga ninja. No, guarda, guarda. A guardare... Uno sentito sarebbe da me. Ragazzi.